Al Dottor Pellegrinato facciamo un paio di domande e cominciamo con questa. Sei d'accordo sulla proposta di Etno di estendere l'ITR a internet, quindi rendere a pagamento le interconnessioni tra i vari operatori? Sostanzialmente direi di no, lo dico da operatore di broadcasting e lo dico da operatore che lavora nella produzione di contenuti. Pare che il 95% del cosiddetto intasamento, questa è la parola che ho sentito, delle reti mondiali, le reti IP mondiali, broadband, sia proprio il video. Bene, allora mi chiedo se questa situazione deve essere normata tassando, quindi semplicemente facendo pagare, oppure se ci sono altri modi di interagire tra operatori e fornitori di servizi, quindi anche di contenuti, che possono portare a una situazione win-win tra di loro. Il problema è molto semplice, se c'è un problema di rete non è semplicemente tassando che il problema si risolve. Se c'è un problema di sviluppo delle reti, allora anche i fornitori di contenuti devono sedersi a quel tavolo tecnico, probabilmente, o anche commerciale, per sviluppare insieme le reti. Non significa che, siccome internet è una tecnologia che passa soprattutto sulle reti dei telco, che internet e il suo consumo è un consumo dei soli telco. Tutti gli stakeholders del mondo internet, produttori di servizi, produttori di contenuti, di applicazioni, ma anche chi, evidentemente, investe per migliorare il trasporto, devono condividere questa esperienza. Non accetto una situazione dove sembra che solo le telco stiano investendo in questo e che quindi devono far pagare tassando gli altri stakeholder del sistema. Devono lavorare tutti insieme, è una situazione win-win. Devo anche dire che loro supportano dei costi importanti, ma da broadcaster dico che anche i broadcaster hanno una propria rete, supportano i costi e le tecnologie, ma il risultato deve essere comunque un risultato utile a chi poi usufruisce di questi servizi. Un'altra domanda, dottor Pellegrinato. Come pensa dovrebbe funzionare tra fornitori di accesso e fornitori di contenuti? Qual è, secondo lei, oggi il punto di equilibrio ragionevole per mantenere lo sviluppo e nello stesso tempo rendere questa situazione sostenibile per tutti? Ovvero, deve funzionare come nell'afonia, cioè fondamentalmente avere una regolamentazione stretta per quanto riguarda chi paga, oppure deve restare come oggi basato essenzialmente sugli agreement multiple, mutual? Innanzitutto direi che internet è stata, da quando è nata, diciamo da quando si è sviluppata nel mondo, e non quando è nata per altri scopi, è stato un cambio epocale nella cultura, nella distribuzione della cultura, dell'informazione nel mondo. Qualcuno dice, è un esempio negativo, preferisco in questo momento commercialmente parlando, considerarlo un evento che può essere positivo. Detto questo, qualsiasi freno, qualsiasi blocco, qualsiasi modalità di esclusione di alcune parti, soprattutto le più deboli, nel mondo internet non è possibile. Internet è una sorta di spazio a democrazia disponibile per tutti, e quindi imbrigliarlo in qualche modo non è la strada giusta. Visto che si parla di un calabrone che continua a volare, continuiamo a far volare questo calabrone, e soprattutto troviamo il modo corretto. Torno a vederla da uno degli stakeholders di internet, e da broadcaster. È sotto gli occhi di tutti che il consumo di televisione broadcast sta cambiando. Questo non significa che la televisione debba necessariamente cedere il passo, ma sicuramente deve reingegnarsi, deve reinventarsi in una modalità di fruizione che non è più soltanto quella live. Per fare questo si ha bisogno di una interazione forte con le reti broadband, che sono in grado quindi di far scegliere all'utente quando guardare un contenuto. Quando parlo di televisione parlo di quell'oggetto strano che sta nelle case di tutti i cittadini del mondo, e che permette una visione allargata e comunitaria dei prodotti audiovisivi, quindi il televisore. Diverso è vedere internet sul proprio pc, sul proprio tablet, è molto più personale, il video anche sull'idea ha delle caratteristiche diverse. Quindi la televisione ha bisogno in questo momento di spostare la sua modalità di fruizione verso un mondo non lineare, e ha bisogno delle reti broadband. Ora, pensare di pagare dazio, anche nel senso di, siccome le reti broadband sono dei telco, e quindi io per arrivare a caso del mio utente utilizzo per conto mio una rete broadcast, ma è live, e quando invece vado nella dimensione non lineare devo usare un telco, e quindi sentirmi sotto una forca caudina. Questo forse non porta a dei vantaggi. Anche qui, se è vero che i broadcaster si riferiscono, hanno un bacino d'utenza che è, diciamo, di 25 milioni di famiglie in Italia, potrebbe essere utile il lavoro dei broadcaster, e quindi il loro servizio, per aumentare la penetrazione del broadband in Italia. E quindi potrebbero essere una causa vincente per incrementare non solo la penetrazione, ma anche quindi i ricavi da questo mondo. L'importante è che riusciamo a lavorare insieme. Comprendiamo molto bene che per avere una fruizione non lineare dei contenuti non è solo sufficiente avere una rete broadband. La fruizione non lineare dei contenuti si fa con il contenuto che sta il più prossimo, il più vicino possibile all'utente finale. Pensate a quando qualche anno fa nel mondo analogico si avevano i videoregistratori. Bene, la fruizione non lineare dei contenuti trasmessi avveniva all'interno della propria casa con il proprio videoregistratore. Bene, questo significa che una rete broadcast è sufficiente, è in grado di portare servizi anche broadband al proprio utente. Semplicemente perché gran parte di questi contenuti ormai vengono trasmessi e possono risiedere in storage, in archivi che stanno già nella casa dell'utente. Pensate ai DVR, per esempio, quindi Digital Video Record. Quindi dobbiamo lavorare insieme all'industria, alle telco, a chi produce apparati, ma anche a chi produce ricevitori, per fare in modo che facilitiamo la distribuzione di contenuti non lineari insieme ai contenuti lineari. Il broadcaster detiene una rete broadcast che è anche utilissima per portare questi contenuti nella prossimità del utilizzatore finale, sia che esso sia a casa sua, quindi nel suo impianto, diciamo così, condominiale, oppure che questi contenuti tramite le reti broadcast atterrino nei pop dei telco e che quindi vengano poi distribuiti il più vicino possibile all'utenza finale senza impattare sulle reti di trasporto.